Benvenuti al mio canale, sono Frank Mazzoni, direttamente dalla nostra stanza che stiamo riarredando con Lady Kris, stiamo pronti per andare a provare Dead Isla, Ripty, Definition e Slime. Definitive Edition. Sì, quella lì. Che bello. Comunque il prologo l'abbiamo già fatto, adesso andremo a provare la prima missione. Lady Kris, puoi selezionare il tuo personaggio e invitare. Nuova partita? Sì, nuova partita. Allora, siamo nel primo capitolo di questa storia, io sono qua, Lady Kris, eccola qua. Bene, propone uno scambio, bene, cominciamo con qualcosa del genere. Io sono il barbone e lei la cinesiglia. Ok, direi di andare subito alla bandiera, ci troviamo davanti. Vai, fai strada. Alla bandiera? Sì. Allora, col destro, R2 cazzotti. Questo è nulla. Ok, calci con L1. Di qua o di là devo andare? R1 è una sorta di scelta di armi. Eh, non lo so. Da una volta ci arriviamo? Guardate che bello ambiente. Acqua. Facca donna. Occhio intero, eh. Questo? Può prendere qualcosa. No, però si può dare anche un giro. Caccione qui, eh. Eh, qui c'è una liana. Qui sta sotto, eh. È pure. Oh, vedo qualcosa. E io non posso... Ah, ok, quadrato. Chi ha una guarda? Dove? Io. Che ormai? Non puoi vedere? Ah, io non ho armi, scusa. Cioè, hai un bastone in fuoco. Bene. Con una rama? Non ho tanto. Quisci che posso prendere qualcosa. Vai. Aspetta. Zombie? Sì. È già morto? Sì. Ho visto che si può dare... Ah. Dai un calcio a questo. Butterlo di sotto. Con un calcio. Bene. Che bello. Calcio nel culo di calcio. Oh, sembra di essere in Liguria. Sembra molto Thailandia qui, eh. Ok, andiamo avanti. Aspetta, voglio abbassare il volume di diavolo. Io non ho armi, niente, eh. È morto, è morto. Sì, per me c'era una zombie morta e... per i soldi. Ecco, con i soldi si potrà fare... Prendiamoli, perché mi sa che si utilizza per qualcosa. Attenzione, c'è qualcosa là. Ah, zombie, zombie, zombie. Aspetta. Questo è zombie? Sì. Perché c'ha il numero in testa? Zombie, camminatore, livello 16. Camminatore, livello 19. Ah, c'è anche livelli. Livelli di forza o no? Aspetta. Aspetta, che ho visto... Eh, ce sono... Ce n'è un altro culo. Calcio, non faccio. Ma io armi non ne ho. Non ce n'è più una persona. Avrei messo. Si può prendere i soldi, eh, dice. C'è un simbolo. Doviamo a vedere. C'è gente in difficoltà. Pensate che dobbiamo salvarlo, eh. Vai su, vai su. Vabbè, c'è ancora forza. Avvitiamo quello lì. Avuto io, vabbè. Ok. Perfetto. Dove va? Tutto bene? Roba da prendere. Ho bevuto qualcosa? Ma so, c'era una roba da prendere. Altre persone da aiutare. Si. Vi laccio in un altro, lo aiuto. Oh, non mi colpisce più. Vai. Ah, c'è una sorta di barra. Non so a che serve. E qui è l'intagio in faccia. No. 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 Ok. Aumento il livello. Tranquillità ora? Ok. Sono un sacco di cose da raccogliere. Raccogliamo allora. Intanto c'è un messaggio, parla con Trevor. Però raccoglierei prima qualcosa. Ok. Io vado a parlare con Trevor, te intanto stai lì. Non c'è niente. Eh, va bene. Eh, ma... Eh, ma... Ah, beh, ma c'è... Sì. Ma c'è niente. Ah, sì, qualcosa sì. Oh, merendine. Buone. Eh, ma non mi danno niente. Sono già al massimo di energia. Merendine, uguale. Non le consumiamo che magari possiamo tornare a riprendere. Non so se ci sono di contino. Frutta. Mangia. Vabbè, lasciamo qui. Sono pieno. Allora, vieni da questo qua. Parla con Trevor. A parte ognuno di loro ha un simbolino visto, eh. Deposito di Harry. Di? Deposito di Harry. Questo ci ha aiuto a Trevor. Fai affari con Zaynor. Armi da taglio. E poi questi qua? Ognuno ti dà una mano, mi sa. Questo che c'è? Questo niente. Questo niente. Vai giù. Questo. Ah, questo deve essere tipo... Eh, ma non l'ho capito. Deve essere un banco da lavoro. Lì c'è dei pezzi di metallo. Però non lo so. Forse non l'abbiamo ancora... Non lo ricordo perché c'era... The Last of Us... Armi. Armi. Quello dei zombie c'era una cosa del genere. Dove potenziavi dei armi. Infatti qui è ripara. Potenzia o modifica. Ok. Il denaro. Vedi, abbiamo il denaro, il livello. Potenza modifica. Aspetta, fammi vedere bene le cose. Ah, qui c'è la mappa. Vedi, quanto è grande. Grazie. Abbiamo la mappetta. Missione. Inventario. Abilità. Ah, c'è da... C'hai... Punto di abilità disponibili. Utilizziamo. La furia. Non ti fa muovere. La velocità ci resta. Pugni infucati. Non tieni di rabbia. Tutti lo proprio deciso. Anni viva. Quanto a quattro. Quanto c'è no? Piccchiato 2. Un attacco ampio e potente durante lo scavo. Ma quelli verdi sono già attivi. Sì, quelli verdi credo sì. Non so se... Sì. Credo. No. Aumenta la resistenza delle armi proprio di più. No, puoi aumentare. Sono attivi però puoi aumentare. No. Io intanto faccio l'eserci. Mano a mano che si fa avanti mi sa che... Sblocchiamo più. Vedi cosa ti può interessare? Resistenza arma mi interessa che resistano tanto. Aumenta la resistenza delle armi corpo a corpo. Sì. Ok. Va bene. Ok, allora. Io però non ho armi. Fate quello. Vabbè, troverete qualcosa. Non ero. No. Potrei comprarle da lei. Te hai qualcosa di armi? Ci potrei dare questo per te. No, ti devi dare. A me se vede un'altra cosa, sì, se posso prendere qualcosa di... Fai affari con... Ah, vedi? 2.200. Posso comprare solo questi. Questi non li posso comprare perché sono... Troppo prezzo, un livello è troppo alto. Potrei comprare un coltello da lancio scadente a 336. Mi sembra tanto, no? Anche ora lasciamo le più cosi, no? Aiuta Trevo. Non ti dice. Bravo, 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 molto bravo. Il ponte è il punto dello. Mi sembra... Mi sembra... Mi sembra... Mi sembra... Mi sembra... Mi sembra... Ok. Vuole che... Recintiamo... Questo posto qua. In modo che i zombie non ci attaccano. O non li attaccano. Per una realtà... Ah, ci dà anche una ricompensa. Sparachiodi. Uh, sparachiodi la voglia. La voglia. Quindi proviamo a fare questa missione. Inizio, ora. Eh, mi apprezzato. Amore, chiariamo. Un po' marti. È peccato che non vedete il mio personaggio, vabbè. Lei è questa, comunque. Allora. Ah, eccole qui, recensione. Si prendono... Ah, c'è la mappa, guarda. Fa vedere dove metterle. Start, recensione. Questo, no. È caduto. Allora, recensione. Levati, dovevo metterle. Ok. Quadrato e limiti. La trovi intera? Figo. Che disegniamo l'amoratoro. Guardate in giro. Io le trovo. Sono segnalate dalla mano. Ok. Fatene messi te. No. Mi sono andato da... Di qua. Andano già via. Mi sa che ho conosciuto un po' di roba. Fatene un'altra. La faccio. Ok. Mi sa che ho messo anche questa. Ma sei tutte? Sì. Questa missione verrà registrata. Preparati a difendere il villaggio. Oh oh. Io non ho armi, cazzo. Ma lo vuoi qualche via? No, a me si trova qualcosa in giro. I call... Oh, una mazza, aspetta. Trovate, trovate. Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Raggiungi. Ok. Arrivano, eh? Non so da dove, ma arrivano. Ah, la mappa. Arrivano testi rossi... Teschi rossi. Saranno loro. Sì. Ma qui si sfondano. Cazzo. Due di qua. E qua stiamo fermando. Oh! Eccolo qui uno. Stanno per entrare qua. Ah, li posso picchiare prima che sfondano. Come va? Bene. Ti vengo a ritare ora. Ti vengo a ammazzare questa stronzone qui. Usa anche il calcio che torna bene. Eccolo qui uno, come va? Arrivo. Vai, Chris. Qui è che... Controllati la mappa. Ogni tanto i tuppi uno alle spalle, signora. Vai. Non hai armi te? Qua ci hanno bisogno. Mi sa bene, per il tempo che la salva lì era. Due alle mie spalle. Dove? È di sopra, è di sopra. È ammazzonato. È ammazzonato? C'è Ace. Ok, blocchiamo un attimo qui. Vai un attimo, attenta. Ti vado avanti. No, la vado io, vado. La pazzo io. Vai a aprire l'acqua con Daytona Race. La pazzo io. Levati, levati! Sono pazza. Arriva subito. C'è di Ace. Peppa! 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 Vieni. Pucciali, eh. Attenzione, signori e signori, abbiamo i tecnici di Apocon proprio in questo momento. Proprio in questo momento sono arrivati. Direi di salvare qui per sicurezza perché stanno per scollegare internet. Sicuramente. Non lo so, però per sicurezza direi di salvare qua. Salviamo qui, intanto siamo arrivati a questo punto che abbiamo ammazzato. Come si fa a salvare? Così.